I doveri dei genitori. Molte volte il comportamento freddo o addirittura ostile dei figli scaturisce da un'educazione inadeguata, non solo sotto l'aspetto religioso, ma anche secondo il profilo psicopedagogico. È opportuno preoccuparsi che i figli stiano bene in salute e che vadano bene a scuola, ma che giochino, che amino stare insieme agli altri, comunicare ad essi progetti familiari, le difficoltà familiari ed essere anche amici e confidenti. In modo particolare è importante i genitori, quando i bambini sono proprio piccoli, prima della scuola materna, giocare alle bambole, ai soldatini, con i propri figli, perché è allora che i figli sentono l'amore di papà, l'amore di madre e si sentono legati a loro. Padre Pio visse in un ambiente agricolo dove vigeva un metodo infallibile educativo con un dato di popolarità che così riassumeva «Ho sofferto io e non voglio che soffra mio figlio», oppure un altro detto della zona di Padre Pio, «mazza e panella, mazza e pane, mazza e panella fanno i figli belli, pane senza mazza fanno i figli pazzi». Cioè sviluppare nei figli una coscienza ricca di valori, l'amore, la dolcezza, il perdono, il rispetto della persona, il rispetto delle cose altrui, sempre. I doveri dei cittadini. La famiglia da sola non può assicurare lo sviluppo e la formazione dei figli per cui delega le autorità civili. Ciò comporta una serie di leggi che si è tenuti ad osservare. Quando le leggi sono contrarie all'ordine morale e l'insegnamento del Vancello, non si è tenuti all'obbedienza. Doveri delle autorità civili. Gesù, prendendo spunto da una richiesta, disse «I capi delle nazioni dominano su di esse. Non così dovrà essere tra voi. Colui che vorrà essere il primo tra voi si farà schiavo». La pubblica autorità ha il compito di creare possibilità per tutti di partecipare alla vita del Paese. E su questo si misura la capacità e la serietà delle amministrazioni comunali. Grazie. Grazie a tutti.